Un nuovo presidio territoriale nel pieno centro di Nuoro per diventare un punto di riferimento dei cittadini sulle principali tematiche legate al Nuorese e all'isola al centro dell'agenda di partito. E' stata inaugurata questo pomeriggio, presso il Corso Garibaldi, la nuova sede nuorese del Movimento 5 Stelle. L'obiettivo è riprendere a far incontrare le persone. Noi stiamo seguendo tanti temi a livello nazionale, ma anche a livello regionale, quindi approfitteremo di avere un luogo fisico, perché ogni tanto è bello anche incontrarsi di persona, per affrontare questi temi anche su richiesta delle singole persone. Abbiamo la fortuna di aver conosciuto tante persone che hanno ruoli anche importanti e potremmo anche chiamarle qua proprio per affrontare questi argomenti che interessano nello specifico le persone. Una cinquantina per ora gli iscritti nella circoscrizione nuorese che ha iniziato le sue attività di recente. Per noi è importantissimo avere un punto di riferimento, un posto dove i cittadini si possano informare di cosa sta facendo il Movimento 5 Stelle a livello nazionale, ma anche che tipo di ricadute ha l'azione del Movimento a livello locale. Per esempio uno dei temi potrebbe essere spiegare la legge sulle comunità montane che abbiamo presentato insieme ad Emiliano Fenu, proprio per far capire quello che è l'impatto sull'economia del territorio, piuttosto che anche spiegare ai sardi che cosa comporta l'autonomia differenziata, di cui poco si parla, è un tema per giuristi e che invece molti impatti ha sulla sanità, sull'istruzione e sulle cose che sono cuore vivo per i cittadini. Quindi è importante anche che i cittadini sappiano che possono contare su di noi, che possono avere informazioni e che hanno una rappresentanza vera e adesso finalmente anche concreta sul territorio.